Siamo in via Enrico Lalloggio, una traversa di via Senatore San Martino, qui insistono diversi alloggi popolari realizzati 40 anni fa e assegnati quasi 35 anni fa. La scorsa notte si è sfiorata la tragedia dove sono caduti improvvisamente dei calcinacci dai balconi di tutto l'edificio. Che cosa è successo? E' successo che c'era la signora, stava per uscire fuori, tutta una volta accade tutto il calcinaggio e fortunatamente non è uscito fuori, altrimenti si succedeva la tragedia. Purtroppo si è finita bene la signora. Chi ha rischiato è lei appunto. Ha rischiato di morire io perché se non mi chiamava sua zia io a quest'ora sarei al cimitero. Prima non cosa, io non ho altro da dire perché qua non abbiamo nessuna, come si dice, non so. Nessun aiuto di nessuno, dell'usinaco, cazzo popolare, nessuno. Io ho paura fino ad andare al barcone, io ho paura. Anche stamattina il suo barcone è caduto pure, come dice il signor Cazucci. Che cosa lamentate? Che cosa lamentiamo? Che vorremmo innanzitutto che è da sabato sera che aspettiamo che il sindaco doveva mandare qualcuno per pulire. Siamo al mercoledì e ancora il signor sindaco non è venuto, né lui. Ha dato la parola di chiamare alla teleradio Canicattì. Invece ha chiamato stamattina il signore alla teleradio Canicattì. Vergogna, sindaco. Ma il sindaco dice che non ha niente a che vedere con l'Istituto Cazzo Popolare. Bene, benvenga, ha ragione. Ma cercare di sollecitare a noi persone, a dare una mano d'aiuto. Non con il rischio che la signora stava morendo, io con la bambina a due anni che mi gioca giù. Il rischio di morire. Vergogna, la pulizia. Dov'è la pulizia? Persone anziane che non possono uscire dalla scala, che rischiano di cadere. Io ho mia nonna di 84 anni e non può scendere. Perché c'è lo schifo, vergogna. La strada, mandare a qualche spazzino, alla siciliana qualche spazzino, vergogna. Poi altri problemi? Altri problemi, questo è un po' di pulizia. Di dare la parola, quale parola è? Che non viene, non manda a nessuno per pulire? No, parlavate che c'erano problemi all'interno dell'abitazione, c'è muffa. All'interno dell'abitazione, muffa. Siamo andate all'Istituto Casa Popolare e ha detto che non hanno fondi. Va bene. A spese nostre abbiamo pulito la casa. Perché la muffa era fino al cervello. Io, è tutto l'inverno che mia figlia ha problemi con il muco. Per non parlare, problemi anche delle zecche. Problemi delle zecche, problemi dei zetti, zanzare. È una notte che non dormiamo. Un po' di pulizia, un po' di disinfestazione. Dove è la disinfestazione? Giochino, come vi muoverete adesso? Altrimenti o prevede il sindaco a parlare con la GP. Altrimenti noi facciamo tutta la spesa nostra, tutto questo lavoro. E poi non ci paghiamo più le case. E poi vediamo che cosa succede. L'importante è per pagare la spazzatura. La spazzatura come? Così che da sabato a notte aspettiamo qualcuno che viene a pulire? E dove? La spazzatura? La spazzatura? La spazzatura?